allora salve buongiorno a tutti ancora un ultimo annuncio un ultimo avviso prima di passare questo fine settimana tranquillamente nelle nostre famiglie e prepararci per lunedì volevo spiegare che la videoconferenza che verrà fatta lunedì mattina e anche altre che verranno fatte durante la settimana che serviranno a dare informazioni a guidare nello studio di questi giorni di questi prossimi giorni verrà fatta su una piattaforma didattica la piattaforma didattica we school è aperta a tutti c'è nessuno sarà escluso anche lunedì mattina quindi chi non ha chi non potrà vedere diciamo la video lezione potrà comunque contemporaneamente a noi seguire l'attività didattica sulla piattaforma dove ci sono tutti gli strumenti per comunicare per stare insieme soprattutto e quindi lunedì mattina tutti quanti siamo addirittura siamo già arrivati a 138 iscritti ma io mi auguro che insomma in questo in questa giornata e quella di domani si possono iscrivere ancora tantissimi altri studenti la registrazione facile serve soltanto un cellulare che ce l'hanno tutti più comodo se avete un tablet però il dalla da uno smartphone da un cellulare si può seguire perfettamente qualsiasi tipo di attività che vi proporremo ok verranno affrontati durante la settimana vari alcuni argomenti che seguiranno un percorso che ho già preparato per voi e quindi lunedì ricordo nessuno sarà escluso ok perché perché avremo la possibilità di comunicare contemporaneamente sulle wall ok sulle wall della di we school si può accedere da qualsiasi dispositivo e nelle wall ci sarà la possibilità di comunicare che parlare chiarire avere chiarimenti e avere tutte quelle dinamiche necessarie per fare una didattica comune collegiale con tutti gli studenti iscritti alla classe il materiale dove si prende il materiale si è facilmente raggiungibile nello spazio accanto che la borda nella borda troverete il materiale anche di lunedì che ho preparato per voi ricordatevi che dopo aver fatto quindi nell'arco della mattinata io vi dirò di svolgere dei compiti quindi vi dirò da fare delle cose non è a senso unico quindi non sarò soltanto io a presentare l'argomento ma durante la mattinata anche vi ripeto tramite la wall vi dirò che cosa fare che cosa svolgere le ricerche da portare avanti e da mettere in delle borde aperte che ho preparato per voi ok quindi c'è da fare c'è da fare in modo attivo da tutti anche da chi ha il cellulare e il tablet ma attenzione perché dobbiamo chiudere un cerchio quindi comunicare studiare e poi c'è ovviamente ho preparato anche un test finale il test finale che sarà una sorta di gara per vedere insomma se avete un feedback molto diciamo semplice in cui voi svolgendo il test avrete la sicurezza che avete appreso tutti i contenuti dell'attività che ho preparato per voi ok quindi vi aspetto tutti quanti lunedì c'è ancora sabato e domenica per iscrivere per diffondere notizie siamo arrivati a 138 iscritti e poi vi ricordo assolutamente nessuno escluso grazie e a lunedì ciao